Nella parte più settentrionale del Gargano, tra le ultime pendici del Monte Pucci e Torre di Spinale, sorge Peschici, considerata la perla del Gargano. Peschici deve il nome alla sua posizione, che la vede adagiata su una rupe a picco sul mare. Peschici significa infatti rupe a picco. Dimenticate le orribili immagini che nel 2007 l'hanno resa famosa al grande pubblico a causa di un incendio devastante, Peschici ha subito riconquistato l'attenzione di tutti, grazie alle sue meraviglie. Ai piedi della rupe la costa è ricca di grotte e di insenature che si alternano ad ampie spiagge dorate. Lungo il tratto di costa fino a Bieste, calette nascoste e baie stupende si aprono all'improvviso nella rocciosa costa garganica, baia San Nicola, baia di Manacora, baia del Turco e soprattutto la selvaggia Zayana. Nei presidi alcune di queste località, sugli scogli più remoti, sorgono i trabucchi, antiche costruzioni in legno utilizzate dai pescatori per sistemare le reti da pesca. Mangiare d'estate al tramonto nei rustici ristorantini, in prossimità dei trabucchi, è uno dei piaceri a cui è obiettivamente difficile rinunciare. Un giro per il centro storico di Peschici equivale ad un fitto di stricarsi tra viuzze e costruzioni bianche, sormontate da cupole caratteristiche che attribuiscono alla cittadina garganica una connotazione architettonica di stile moresco. Botteghe di artigianato locali e negozi di souvenir si alternano a chiese e palazzi di interesse storico, come il castello a picco sul mare o la torre del ponte. Il suo dialetto cantato e i suoi prodotti tipici sono tra i più folcloristici e caratteristici d'Italia. Peschici è la meta ideale per tutte le fasce d'età. Giovani e anziani non potranno che rimanere entusiasti nel trascorrere una vacanza presso la pera del Gargano. Grazie per la visione! Grazie per la visione!